Benvenuti in questa nuova live Quest'oggi live in collaborazione con Epic Games Giochiamo a Fall Guys, quindi figata pazzesca Perché appunto, come sapete, Fall Guys è diventato free to play dal 21 di giugno E adesso è comodissimo giocare proprio perché è gratis Lo trovate nell'Epic Games Store, lo trovate su Xbox, lo trovate su Playstation, sia a 4 che a 5 E anche su Nintendo Switch, insomma si può giocare a tutte le parti Che è una gran figata Tra l'altro ci sono un bel po' di novità, le andiamo a vedere oggi assieme Facciamo un po' di match da soli, facciamo un po' di match assieme a voi Insomma ci sarà un po' di tutto E ci divertiamo, insomma Allora Frey, che malità facciamo? Spettacola coppie E beh, questa è una figata Vai, vai Ok, poi cos'è sfida Spartan? Anche perché ci sono tantissime modalità nuove Cioè nuove per me che non lo gioco da un po' di tempo Eh no, ma è pieno di... ma ce ne sono tante nuove anche per me È pieno di novità Quindi ne dobbiamo provare tante Allora io direi spettacola squadra secondo me è un'ottima scelta E direi che possiamo mettere appunto il ready Devo gonfiare un po' di palloncini per andare bene No Ok, facciamo in questo modo Stavo andando troppo bene, lo sapevo Andiamo di qui Toglietevi tutti Ok, dai, dai, dai Ok, stop Andiamo No, sono stupida Allora Mi stanno triggerando gli spuntoni Perché poi la gente ti sta appiccicata Sono... Veramente Io sono un bot, Steph Cioè te lo dico Sì ma mi sono ucciso da solo Cioè questo era imperdonabile Oh niente, dovresti farlo Niente, sono stupida Dai, ma davvero mi... Io sono arrivata adesso Quindi ho fatto qualificazione creda di bronzo Eh Steph Non conosco la mappa che ti devo dire Ti sto giudicando eh Adesso un pochettino Io non l'ho giudicata No, io mi sto giudicando Io mi sto giudicando Allora ci siamo salvati grazie al mio arrivo Come ci sei solo tu, stai? Dici? No, è di squadra Fere Teoricamente ci sei Teoricamente ci siete State facendo la modalità classica Dicono però Ho sbagliato il join Uh, che carina però queste mappe Molto Questa mappa è fighissima Non avevo mai giocata Eh, niente io Infatti per quello le sto scoprendo Tutto la ma è molto carina Uh, beh salto L'ho schillata di brutto qua Ecco Perché parlo? Ok, sono andato tra i primi Dai Quinta posizione tipo Direi benissimo Allora Vediamo cosa ci capita Questa No Sei di nove Mancheron tre eliminati Aia Ok Tutto bene, tutto bene Hai resistito Eh Menomale che non siete in troppi Perché questo è odioso Quando si è in tantissimi Eh ma questo è complicato a priori Perché qua ti puoi anche spingere Capito? Qua è solo non farti spingere Bravi No, poi qualcuno ti prende No, Mamutino Riscaterà Vai, campione Vai, vai, vai Oh, gli hai sfruttati tutti Ho fatto un infame Non voglio dire nulla Ma questa è una di quei tipi di finale Che so vincere Eh, l'hai detto Non vinco Ma so vincere Ti dicono povero Mamutino Sì, sì L'ho trattata malissimo a Mamutino Cinque eliminati Rimaniamo soltanto in quattro Non vado ancora Vado adesso Occhio Mi stava spingendo Switcho per sicurezza Ok Il paperotto mi sa che è andato Switcho ancora Questo adesso è quello lungo Quindi easy Vedi quanto adesso è più corta la mappa Opla Opla Ragazzi Fa venire davvero La mia testa No Occhio Steph No Aiuto Oh, ti ho visto cadere Mi stavo spaventando Hai vinto? Mi sei sì Mi sei sì Sì Non l'ho visto Non l'ho visto cadere Ecco io non l'ho visto cadere Quindi non capivo Ok GG Prima partita Prima win di Steph GG Ok 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 Ancora come si fa A quanto pare Allora Quindi Seleziona spettacolo Togliamo spettacolo in solitaria Giochiamo solo quello con Fere Che mi farà perdere Allora Quanto è che non giochi a Fall Guys Penso davvero Almeno un anno In video Penso due annetti In live Forse facevo un annetto fa Io quindi almeno due annetti Perché poi in live Lo facevi tu Sì Secondo me tu due annetti No di nuovo questa Già Aiuto Insomma devo cercare comunque Di fare Il meglio possibile Io Cioè mi viene un nervoso Quando è la gente attorno Mi devo riabituare Ai giochi In cui le persone appiccicate In ogni modo possibile Inimmaginabile Ok Sono passato Sono tra i primi Credo di arrivare per primo Su tutti Dimmi che ce la fai Ok Allora Fere Ho arrivato per primo Ho dato 60 punti alla squadra Corri verso destra In diagonale Così E però Li guardi Ok Hai capito Un po' meglio Sì Un po' meglio Ok Vai Brava Esatto 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 È quello il concetto Vedi Vedi Sì Sì A saperlo prima Mannaggia Con la tecnica Per Non l'ho vista No ti dico Non l'ho vista Ce la fai Ce la fai Ce la fai Ok Con qualche scivolone Ma ce l'ho fatta Ce la fa Mi raccomando Non ti voglio mettere pressioni Ma te le sto mettendo Rotola in pista Agire gli staccoli In questa pericola Pista e raggiunge il traguardo Ma quella di prima Eh no Prima era due giri Ah e vabbè Ora è un giro Ma è quella di prima Secondo me È un'altra pista simile Ma io dico Non ce ne possono capitare altre Sembra molto bella Qua si rimbalza Ok Quindi vai a lato Ho lato adesso Lato sinistro Esatto Ok Brava Eh sono C'è un carico Non mi ha detto brava Non l'ho notato Però comunque Sei molto più avanti degli altri No perché adesso Mi faccio vedere la parte sotto Che è quella un po' Bruttina Mamma mia Ragazzi È la prima volta Che la faccio Primo Ma incredibile Ma che cosa sono oggi Vai per è che sei quasi arrivata Ok Perfetto Al momento La posizione della nostra squadra Comunque è seconda Uh Capirci un tubo Ho fatto in strada Tre tubi Per raggiungere la linea Del traguardo Ok Battute Credo sia una sorta di labirinto Non l'ho mai provato Sono curiosissima Ok No ragazzi Ho capito cosa è capirci un tubo Sembrano i percorsi da cricetto Brava Allora però è bellissima Ok andiamo Io cioè prendo tubi E non ho idea di Dove finirà la mia vita Eh ma è quello il concetto È per quello che capirci un tubo Beh beh Anche tu hai ragione Ok andiamo qui Sto gonfiando palloncini Ne sono consapevole Però Sapete l'importanza Del posizionarmi bene No perché è saltato tutto storto Non toccatemi che Ecco 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 Non me l'aspettavo Unexpected Ferre stai arrivando? Sì Veniamo eliminati eh Come? Eh sono all'altezza dei dischi Il problema è che Quando ci sono queste robe C'è la gente che ti rimette 21 punti Ferre devi arrivare adesso Eh stas Non posso proseguire Molla? Ok Siamo salvi Non lo so Due punti abbiamo preso Qualificazione raggiunta E proprio Ce l'ha regalata Questa qualificazione eh Qua è persa Qua è persa Questa No io in realtà In questa Ai tempi di Fall Geister La finivo sempre per prima La detto Sempre Però ragazzi Tempo fa adesso Un attimino No 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 Vado Ok Ok Sono dietro di te Per ora Ok Dai levatevi Ok 21 punti Forza 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 Ferre Viva tenendo sto maniaco Allora ci segna come Prima squadra qualificata Attenzione Hai visto che io Questa la finisco sempre Sai che la prossima Probabilmente è la finale Otto squadre Facciamo la finale In sedici Sicuri Boh Davvero Cioè in sedici La finale è tanta roba Vediamo O c'è ancora O c'è ancora Un match Prima della finale Basta che vinci uno solo E vincono entrambi Round finale Quindi Steph Ah Qui è dura Ecco Ecco che mi hanno già fatto cadere Allora Ho fatto una caduta terrificante Sono messo peggio di te al momento Questa ragazzi È andata Perché la gente I piani alti Piuttosto che pensare a salvarsi Pensa di più a farti cadere Cioè sono stati proprio così Aspetta Dai Dai che tu sarai ancora a gestire Però ragazzi Ho alzato le mani Fin da subito Questo gioco Non lo vincerò mai Nella mia vita Wait Steph Sì Bravo Stavo per dirti L'altro non ha più piattaforme Perché l'ho visto che era rimasto Ci manteniamo Ecco Alla destra Ho già avuto una sfortuna Incredibile Salto Salto Centrale Mantengo il centrale Spazzo su una persona E cado Centrale Centrale Passo sotto Centrale Eccolo Ok Ottimo Arroggia qua Dai Forza Perfetto Mannaggia No mi hanno incastrato alla fine Mannaggia Corri Uh c'è sto robo Allora Ok Tutto a posto Ci sei tu? Sì sì Pesta calpe Oh no Fere Che è? Devi sopravvivere tipo per un minuto e mezzo Corri in aceronti Certo Ok Io ho paura di essere eliminata tipo dopo E l'ultima charge Occhio Ok Ci sono Ci sono Non fa in tempo a fare l'ultimo Perfetto GG 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 No 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 La coda no La coda no Ce l'ho io poi No me l'ho ripresa Zitta zitta No me l'hanno rubata Perché c'è troppa gente No ragazzi è complicato No Ciao Steffo No fermi via No io ho la coda Ho la coda Due Uno Io l'ho rubata All'ultimo Uno che me l'aveva rubata Primo Ho fatto proprio l'infamata Round finale Questo l'ho perso Ho perso Ok No Ho fatto un salto stupido Ho fatto un no È stata colpa mia ragazzi Ho fatto proprio un salto stupido Ok Resisti Ok Io non so come Come si può Fa venire mal di testa Vi giuro ragazzi Ma anche l'altro È un tryhard ragazzi Si sta gonfiando i palloncini Per i prossimi tre anni Ce l'hai fatto Yes Bravo Bravo È stato difficilissimo Aiuto Questo è ancora più difficile Dell'altro Di win In finale così Sì 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 Bello Perché questo era ancora più bravo A tryhardare Porca miseria Bella win Ok Ok Ci siamo fatti tre win oggi Comunque nei match ufficiali Direi che ci fermiamo Quindi direi che va bene così Bella live Tryhardato bene Mi sono Sì anche un po' di win Che comunque Ci stanno Per essere che eravamo un po' arrugginiti Ci sta Grazie a tutti Grazie a tutti